E sempre in Francia, a Parigi si indaga sul ferimento di una donna colpita da un oggetto mentre usciva da una sinagoga e proprio di antisemitismo e dei valori dell'ebraismo parla al Tg2 Ruth Dureghello, appena rieletta presidente della comunità ebratica di Roma, Giovanni Battista Brunori. È un secondo mandato di grande soddisfazione con un voto a mio avviso tutto al femminile. Non sono mancate in questi anni le testimonianze, le manifestazioni proprio d'orgoglio delle donne ebrere e romane che hanno visto in me un simbolo, un modello e nella mia gestione, in quello che abbiamo realizzato, un esempio anche per il mondo che ci circonda. Quali sono le linee guida dei prossimi anni? La continuità sul modello di assistenza, sul sociale, sull'educazione ebraica, su una cultura che si apre al mondo esterno e sul contrasto all'antisemitismo. Non ultimo il grande tema di Israele. So che tutti i giorni le comunità ebraiche in Svezia lanciano allarmi importanti. Lo tema della violenza contro il diverso e contro l'ebreo è diventato un tema veramente quotidiano. L'appello è quello proprio a ritrovarci nelle nostre diversità ma accomunati da valori di pace e convivenza. Il modello di integrazione va un po' ripensato anche in quei paesi del nord Europa? Sicuramente c'è qualcosa da fare sul modello di integrazione. Innanzitutto il rispetto delle leggi del luogo in cui si dimora e dall'altra parte il rispetto per la nostra diversità. E questo è, credo, il modello che potrà essere vincente.